50.000 euro è il finanziamento che la Regione Puglia ha stanziato per sovvenzionare il progetto Riccibiamo 2.0, presentato nell'ambito sociale 5 e che coinvolge i comuni di Capurso, capofila del progetto, Trigiano, Adelfia, Cellammare e Valenzano. Mirare alla promozione e alla condivisione di campagne contro lo spreco alimentare, come ci spiega Michele Rizzo, presidente dell'associazione Civitas Maria di Capurso, promotrice dell'iniziativa. Il tema del riutilizzo delle materie prime, quindi del cibo non utilizzato, è di forte interesse nella collettività e quindi anche nei cittadini. Anche ora nei locali vediamo un po' quante volte andiamo nei ristoranti o in pizzerie, ci riportiamo a casa, si stanno iniziando a entrare nella mentalità di riportare a casa quello che non viene utilizzato. Quindi bisogna sensibilizzare sempre di più i cittadini, partendo anche dai più piccoli, come facciamo noi nelle scuole, quindi prendendo le eccedenze alimentari delle menze, quelle che sono le menze scolastiche e poi riconsegnato alle persone che hanno necessità. Qui siamo una famiglia di 80 volontari circa che collaborano quotidianamente. Gli altri progetti che abbiamo in essere sono il Taxi Sociale, che è un progetto molto interessante, accompagna le persone che hanno bisogno a fare una visita medica, ad andare a trovare un parente, e versando un minimo contributo possono spostarsi liberamente. Un altro progetto interessante è quello dell'Open Village, che aiuta anche i più piccoli con attività di dopo scuola, attività ricreative. Un'altra attività molto interessante dell'associazione è quella del guardaroba solidale. Raccogliamo abbigliamento in buono stato, viene tutto preparato, piegato, diviso per fasce d'età, e ridistribuito alle persone che hanno bisogno. Quindi anche chi vuole donare può venire qui, lasciare i propri abiti che non utilizza più e poi vengono ridistribuiti. Ovviamente stiamo sempre crescendo con nuove attività e nuovi progetti.